Ragazzi, rimane tanta amarezza e tanta delusione per la sconfitta oggi maturata al Ciro Figurito del Benevento ai danni di un Genoa veramente veramente che ha una grande squadra Io è da inizio stagione che lo dico, con l'arrivo di Gilardino veramente questa squadra sta esprimendo il massimo potenziale sia con gli undici titolari, sia con i giocatori che entrano a gara in corso e oggi comunque per quello visto in campo si può dire che questa è una vittoria meritata Andremo ad analizzare la partita con calma nei prossimi video vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale però raga rimane veramente tanta delusione onestamente oggi ho poco da rimproverare al Benevento ha dato davvero tutto però un po' di migliore gestione in tante situazioni quello sì, abbiamo veramente perso un po' da polli Abbiamo subito un'altra volta due gol dell'ex il primo ce l'ha fatto Cotto poi Puskas sul Photo Finish come a cosenza e la parola di Gio poi Puskas sul Photo Finish come a cosenza